Buonasera, io sono Ferranteliana e a questa mostra collettiva, che ringrazio il professore del Bocco e dell'invito, ho portato due quadri, due quadri che è il classico trabocco e il faro. Tra l'altro il faro è stato premiato, cosa rappresenta? Beh, innanzitutto qui nella nostra regione, c'è una bella della nostra regione, è un paesaggio molto caldo, qui con i colori, e poi c'è questo faro che è proprio l'opposto, cioè la forza, il rigore, i tuoni, proprio la dimostrazione di questo mare che vuole mostrare tutto il suo emozionamento. Ecco, nient'altro. E sono tutti e due olio su tela, tecnica classica e dupla alcol. Grazie.